Oggi noi cercheremo di puntare l'attenzione non soltanto sulla cronaca di questi cinque anni, sulle prospettive per il futuro, ma anche sull'impostazione culturale stessa della Sicilia. Sono stati cinque anni in cui è mancata completamente un'idea di governo, una programmazione, qualcosa che guardasse oltre, che ponesse le basi per qualcosa di solito. Se andate avanti con scelte estemporanee, spesso figlia del momento, figlia della moda, figlia delle necessità, a volte mediatica anche di chi governava. Basti pensare che si è passati da Zichi che è battiato alla segretaria particolare di Crocetta e adesso a uomini di partito, quindi un cambiamento proprio di impostazione totale. E poi sono rimasti sul tappeto una marea di questioni. Crocetta l'altro giorno rivendicava alcuni successi, alcune cose vanno riconosciute, un bilancio più sano rispetto al 2012 quando è arrivato. Basta vedere i sondaggi, il governatore Crocetta è uno dei più impopolari che la storia abbia ricordato. Indubbiamente paga il pegno di essere stato un governatore voluto con molte aspettative, che è andato, che ha fatto una campagna elettorale col suo movimento, basandosi sulla rivoluzione che poi in realtà non c'è stata, perché rivoluzione è un termine forte che indica un rovesciamento di un ordine politico e amministrativo e ha un'altra accezione del termine, è quella del movimento degli astri. Ecco, Crocetta secondo me è partito volendo fare la rivoluzione nel termine del rovesciamento, in realtà ha fatto solo una rotazione su se stesso, ritornando al punto di partenza. Vero è che alla politica si devono riconoscere tantissimi torti, tantissima incapacità, però quella che poi sono le associazioni professionali, la cosiddetta società civile, cioè il meglio che doveva nascere dai siciliani, che a un certo punto si fa parte responsabile e propone, questo c'è stato veramente poco, sono pochissime le eccezioni. Qualcosa l'ha fatta l'associazione industriale, però avendo sempre dei punti strategici a livello politico, perché la strada e i beni allo sviluppo e attività produttiva è sempre stato una di esponenti di Confindustria o di esponenti vicino a Confindustria. Signor Catanzaro, siccome poi non dobbiamo buttare l'acqua con tutto il bambino, c'è un esempio comunque di cinematografia, è un termine sbagliato perché parliamo di una fiction, che è il commissario Montalbano, che ha reso la Sicilia popolarissima per questioni oltre alla mafia, per fortuna, anche perché da quelle parti, la zona della Ragusa, Punta Secca, il turismo lì è rifiorito alla grande perché sono i luoghi del commissario Montalbano. La domanda gliela faccio perché noi ci congratuliamo con lei, perché lei fa parte del cast di queste ultime riprese tuttora in corso, che vedremo l'anno prossimo, di una nuova puntata del commissario Montalbano. Qual è la sua riflessione su quanto ha significato la cultura in questo senso, in quello scorcio di Sicilia che è straordinario, dove c'è il barocco, che viene esaltato alla grande anche da registi, da professionisti di altissimo livello. Sì, ho potuto toccare con mano questa cosa che stai dicendo tu, perché pochi giorni fa ho girato le prime scene, proprio a Dibla, Ragusa antica, e ho visto che prima avevo letto, avevo sentito dire di quello che significava da 11 anni a questa parte, perché è 11 anni fa che sono incominciate le riprese del commissario Montalbano, di quello che ha creato, dell'indotto che ha creato poco fa. Parlavamo dell'investimento in cultura perché crea, crescita, muove economia, e l'ho toccato con mano, centinaia, forse è eccessivo di dire, ma certamente decine e decine di B&B, di ristorantini, e frotte di turisti che attraversavano le viuzze di Ibla. Grazie a tutti.